Siamo presso il canapaio di Ostia, un negozio specializzato nella vendita della canapa e quindi dei prodotti derivati. Specifichiamo subito che non si parla di marijuana o di hashish. Sì, la canapa è un mondo assolutamente vario. Dalla canapa si possono derivare alimenti, si fa tessile, si fa cosmetica, si fa olio, si fanno decine di prodotti che nulla hanno con la parte ludica, con quella che viene definita la marijuana, anche se la famiglia è la stessa. I prodotti che noi vendiamo sono privi di THC e sono la cioccolata con i semi di canapa, oppure l'amaro fatto di canapa. Per Natale avremo i panettoni all'amaro di canapa, oppure il musli, come le due cose che principalmente hanno avuto successo, ma perché sono i primi prodotti che sono nati, sono i semi decorticati e l'olio, ricchissimi di omega 3 e di omega 6 e sono notevoli antiossidanti e integratori alimentari. Quelli provengono da questa benedetta canapa sativa, che nulla ha a che vedere con quella indiva che è ricca di THC. I nostri prodotti assolutamente bio e assolutamente naturali, vengono tutti prodotti in Italia, così come la Cosmesi. La Cosmesi che vendiamo in questo negozio è una Cosmesi vegan, non testata su animali, ma senza fare questo passaggio. Tra le altre cose è quasi a chilometro zero, visto che verde sativa produce a po' mezze, quindi stiamo anche nella produzione quasi sotto casa. Ci sono dei prodotti che sono prodotti rilassanti, perché noi abbiamo delle tisane che sono unicamente fatte con con la canapa oppure sono aromatizzate alla melissa piuttosto che al cardamomo e ai frutti di bosco, quindi una varietà di degustazioni possibili, ma soprattutto sono a base di canapa e quindi fortemente rilassanti. Il tessile è un tessile molto spartano, ma molto simpatico per il periodo natalizio. Sono prodotti infatti in Nepal, che adesso ci ha soppiantato nella produzione. Noi eravamo in Italia i primi produttori al mondo, poi subito dopo la guerra per tutta una serie di problemi con gli Stati Uniti che hanno associato canapa e marijuana, la produzione è praticamente scomparsa e adesso sta ripartendo fortemente. In negozio tra gli alimentari si possono trovare anche alcuni prodotti che vengono dalla Sicilia che nulla hanno a che vedere con con la canapa, ma da noi trovate sempre le gocce di cristalli di CBD diluiti in olio di sesamo. Perché parlo dei cristalli di CBD? Perché pur non essendo un farmaco, o quantomeno non ancora considerato tale, hanno delle capacità pseudo terapeutiche notevoli. È un potente antidolorifico, è un potente antinfiammatorio, è un antiemetico. Devo dire che in questi cinque mesi di attività commerciali abbiamo avuto degli scontri anche tra i nostri clienti, o meglio spesso tra le nostre clienti, visto che essendo un antidolorifico per alcune patologie lo stanno usando come dire, signore in età diciamo non giovanissima. Quindi più di tutti usano questi prodotti quasi omeopatici, chiamiamole così perché non lo vogliamo definire finché la scienza non lo definirà tanto, non lo vogliamo definire. Pari effetti che producono? Potrebbe essere usato come coadiuvante nella terapia chemioterapica, non perché deve sostituire il farmaco assolutamente lungi di me, dire una cosa del genere, ma siccome ha un effetto antemedico, gli effetti collaterali, quindi il dolore e il vomito durante quella settimana di chemio potrebbe essere aiutato dall'utilizzo dei cristalli di CBD in dosaggi che poi ognuno deve decidere in maniera quasi autonoma, deve giostrarlo con il proprio fisico piuttosto che con il medico che in qualche modo dovrà dargli indicazione. Io mi auguro che col tempo sempre più medici comincino a ragionare sull'utilizzo del CBD in generale e sulla caneva terapeutica. Ci stanno adesso sperimentazioni al Gaslini a Genova e al Bambino Gesù per quanto riguarda le crisi epilettiche ricorrenti resistenti a farmaci per cui in alcuni bambini, un certo numero fra altre cose, anche indifferente, parliamo di qualche centinaio di bambini, stanno sperimentando l'utilizzo del THC della canapa terapeutica, non le cose che abbiamo noi, per ridurre notevolmente il numero delle crisi. Così come in Liguria adesso sono tantissimi i pazienti che usano la canapa terapeutica somministrata come prodotto carico in alcune farmacie sotto visione dei medici prescrittori che gli dosano l'utilizzo per molte patologie che sono farmacoresistenti, soprattutto quelle che sono oncologiche, i dolori muscolari che è diffuso che non ha nessun senso ma che non ti fa vivere la giornata perché i dolori muscolari sono notevoli in dosaggi al 15-20% di CBD in olio permette di affrontare la giornata senza l'angoscia del dolore che credo che sia ancora maggiore del dolore stesso il fatto di doverti alzare e sapere che durante il giorno c'è i dolori muscolari diffusi. Grazie 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 Grazie